e salve a tutti ragazzi oggi sono qui con nicololo 3d salve a tutti non lo si ma siamo in i due ospiti oggi che sono saluta ciao e anche costa io ciao saluto io per parte loro allora in questo video cosa faremo faremo il top 5 i morsi di scorpione più letali del mondo quindi ci spostiamo sul mio internet diciamo e altra poco bene ragazzi ho ripreso a costantino mentre cantava e quindi adesso passiamo al primo verso di scorpione il primo verso di scorpione è una cosa molto molto brutta quindi lo metterò in sopravvissione qui su questa la faccetta insomma il secondo verso di scorpione bisogna in sopravvissione qui io metterò io perché adesso loro stanno discutendo che non lo vedono perché lo metterò io con il programma gli spiegherò anche loro e comunque il terzo verso di scorpione il mio ammesso in sopravvissione qui ed è molto stupido cioè non ve li so spiegare perché si l'ha cercati ma non mi ricordo tutti il quarto mosso di scorpione verrà messo in sopravvissione qui qui dove sarà la faccetta e il quinto morso verrà messo per sotto lo schermo che sarà il più letale bene ragazzi io dico che questo video per questo video è tutto salutate tutti i rullosi che incontrate per strada e ci vediamo al prossimo video